Il broccolo di Bassano è una vera ghiottoneria e rappresenta ormai un ecotipo locale, cioè una varietà selezionata dalle particolari caratteristiche dell'ambiente. Viene coltivato nei comuni di Bassano del Grappa, Rosà, Pove del Grappa e Cassola, caratterizzati da un microclima mite, ventilato e non umido. Ne esistono diverse varietà, determinate in base al periodo della raccolta. La più precoce, Bono Rivo, è raccolta da fine ottobre a metà gennaio. Ha colore verde intenso, foglie larghe ed allungate. Segue, fino a fine marzo, il broccolo di Bassano di media stagione, distinto a sua volta in due varietà. Il Meza Stajon Bono Riva, che si presenta più chiaro e con foglie leggermente più larghe, e il Meza Stajon Tardiva, simile al precedente ma con foglia frastagliata e in fiorescenza più aperta. Da marzo si raccoglie la varietà Tardiva, dotata di infiorescenza verde pallido e foglie frastagliate. Questo ortaggio si consuma a bollito o cotto a vapore ed è ottimo anche per la preparazione di zuppe da solo o con altri vegetali.